prepariamo i pangoccioli pronti via sciogliamo nel latte un cucchiaino di miele e il lievito in questa maniera qua mettiamo nella ciotola della planetaria la farina e aggiungiamo il lievito con il latte aggiungiamo anche l'essenza di vaniglia aggiungiamo anche lo zucchero ed il burro ed infine aggiungiamo l'uovo così dopo 25 minuti il risultato è questo lasciamo amalgamare e lasciamo poi lievitare prendiamo il nostro impastino e facciamo il paninetto quindi diamo una forma più possibile circolare così lo mettiamo sulla nostra teglia ed eccoli qua adesso li mettiamo in forno a lievitare un altro pochino una volta lievitati li possiamo spennellare con un po di latte e tuorlo d'uovo e li possiamo cuocere in forno catti e vediamo il mio pangocciolo come è dentro spettacolo mmm sofficissimo no 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 no